Allora Ludovica penso che sia molto fragile, penso che sia appunto luce e buio ma al contrario di Chiara ed è per questo che si trovano così tanto. È inquietante questa cosa che ho fatto. Allora Ludovica cerca rapporti autentici, cerca amore, cerca sicurezza perché in fondo è molto sicura e cerca che... è sempre alla ricerca di un rapporto stabile con la sua famiglia e forse è proprio questo che la rende così tormentata. Non so, diciamo che quando ho letto per la prima volta Ludovica in sceneggiatura mi sono commossa perché è un personaggio molto... spero di essere riuscita tramite quello che ho letto a passare tutto tramite la camera. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!